Uno storico militante attento a distinguere fra ideologia e ricerca storica, memorialismo, etico e analisi dei fatti. Georges Ben-Sussang, storico francese di origine marocchina, che affianca ad una vasta attività di scrittore la responsabilità editoriale del Memorial della Shoah di Parigi e la direzione della Revue d'Histoire della Shoah, ieri era a Ferrara per parlare all'interno della diciottesima giornata internazionale della cultura ebraica dell'emigrazione degli ebrei dai paesi arabi nel corso del Novecento. Un'emigrazione silenziosa, come l'ha definita Ben-Sussang, ignorata dai media e dai libri scolastici, iniziata nella prima metà del ventesimo secolo in seguito all'affermarsi di un nazionalismo fortemente etnicizzato nei paesi arabi, dove gli ebrei indigeni sono vissuti per secoli in una condizione di cittadini di seconda classe, gravati da pesanti discriminazioni, ospiti tollerati, idimmi. Come spiegare la scomparsa di un milione di ebrei dai paesi arabi, avvenuta nella seconda metà del Novecento, si parla naturalmente, come abbiamo detto, degli ebrei indigeni presenti in Iraq da 2400 anni, in Marocco da 2200. Non c'è stato nessun genocidio, ha sottolineato Ben-Sussang, né espulsioni di massa, ma una fuga lenta e incessante da una società sempre più diseguale. La partenza degli ebrei dai paesi arabi è diventata torrenziale fino a raggiungere un milione di migranti in seguito a due fenomeni concomitanti. Da un lato, l'emancipazione culturale degli ebrei, scolarizzati fin dagli ultimi anni dell'Ottocento, inseriti nelle libere professioni e perciò sempre più percepiti dai loro tradizionali dominatori, come estranei e arroganti, dall'altra il nascere di un nazionalismo arabo, molto simile al nazionalismo tedesco, sfociato nel nazifascismo hitleriano.